Ciao cari amici, qualche tempo fa io vi ho raccontato di un coraggioso blogger e giornalista statunitense, Gonzalo Lira, una persona che non ha avuto timore che si è ricata in Ucraina e ha iniziato di raccontare dall'interno di questo paese tutte le malefatte, tutte le problematiche, mettere la luce sulle situazioni che venivano nascoste, soprattutto criticava il regime di Zelensky, ha criticato più di una volta Zelensky di persona nei suoi video, nel suo Twitter, adesso non si chiama più Twitter, si chiama X, ma all'epoca quando lui comunicava ampiamente dall'Ucraina, era ancora Twitter e anche il suo canale YouTube aveva un seguito e lui attraverso il suo canale raccontava tutte le particolari, ma lui non era solo blogger, era anche giornalista, per questo motivo era spesso interpellato da varie testate degli Stati Uniti d'America e partecipava sia alla stesura degli articoli con giornalisti statunitensi, ma soprattutto lui era un freelance, un giornalista libero, non dipendente da nessuna attestata, questo le permetteva sicuramente di avere una visione più ampia su ciò che succede nel mondo, le permetteva di essere più obiettivo e lui era interpellato spesso da diverse televisioni quando era necessario di fare un commento, spesso capitava di vedere lui nei vari notiziari, nei vari programmi statunitensi che chiedevano a lui conferme di varie notizie che arrivavano dall'Ucraina oppure chiedevano a lui di commentare certi avvenimenti. Gonzalo Lira sicuramente era una voce libera, era una voce obiettiva, indipendente, che proveniva dalle Stati Uniti d'America, lui ha le origini cilene perché i suoi genitori, il suo papà, si è spostato dal Cile verso gli Stati Uniti d'America negli anni 60 e poi Gonzalo era nato lì negli Stati Uniti d'America, loro abitavano a Los Angeles in California e quindi lui sicuramente più statunitense che cileno però ha anche questa parte diciamo della sua storia, della sua famiglia, queste origini cilene che sicuramente gli danno diciamo ancora di più un colorito particolare, culturale statunitense perché come sapete negli Stati Uniti ci sono moltitudini di diversi popoli, di diverse nazioni, provengono da diverse parti del mondo e Gonzalo Lira era uno di queste persone, uno di questi figli degli immigrati dell'America Latina e ovviamente lui rappresenta diciamo la parte vera, democratica e libera di quel segmento che negli Stati Uniti d'America attualmente viene purtroppo messo a tacere e anche perseguitato Lui si è spostato in Ucraina tempo fa quando tutto era iniziato, lui ha parlato già all'epoca nei suoi video del colpo di Stato Euromaidan, raccontava dell'ascesa del nazismo in Ucraina, lui conosceva molto bene vari personaggi provenienti dall'ambiente di estrema destra Ucraina, Gonzalo Lira si impegnava molto per riportare al mondo quella realtà che ancora oggi la gran parte del mondo occidentale cerca di negare, insabbiare, vuole in tutti i modi censurare ovvero lui raccontava dell'ascesa del nazismo, nazismo ucraino e ovviamente questo suo impegno ha provocato nel regime ucraino più di una volta la rabbia e l'amministrazione ucraina cercato in tutti i modi di sanzionarlo, solo che lui per molto tempo era difeso da un fattore molto importante e molto a mio avviso all'epoca anche visto come una sorta di protezione assoluta in Ucraina, ovvero la cittadinanza statunitense il suo passaporto statunitense per un lungo periodo ha permesso a lui di agire in questo paese senza timore di essere perseguitato, di essere massacrato, ucciso come lo sono stati i diversi rappresentanti della sinistra ucraina, del partito comunista ucraino, dei democratici ucraini o di altre fazioni politiche che erano contrari al potere del nazismo che ha preso forza in Ucraina nel 2014. Lui io credo che ha un po' sopravvalutato il potere del passaporto statunitense, Gonzalo Lira veramente credeva che il suo passaporto statunitense, la sua cittadinanza, il fatto che l'ambasciata statunitense protegge i propri cittadini ovunque nel mondo, in effetti sono molto famosi per scagionare i propri cittadini anche dai crimini più efferati, io vi ricordo anche solo alcune storie italiane, basta guardare nel nostro passato quante volte è successo che in Italia i cittadini degli Stati Uniti d'America commettevano i crimini efferati e poi venivano rilasciati dalla giustizia italiana alle autorità statunitense e poi negli Stati Uniti d'America non portavano nessun tipo di sanzione per i propri crimini a partire da militari statunitensi che hanno ucciso, stuprato, hanno fatto di tutto sul territorio italiano in questi tempi anche piloti aerei che hanno massacrato la gente quando hanno buttato il vagone di funivia oppure la giovane ragazza statunitense che insieme col suo fidanzatino erano coinvolti in un omicidio è una situazione abbastanza ambigua però appena rilasciata agli Stati Uniti d'America questa ragazzina negli Stati Uniti non è stata assolutamente perseguitata dalla legge ma rilasciata a vivere in libertà e nessuno si è più preoccupato se è colpevole o no a condurre le indagini e così via questo è un normale comportamento che gli Stati Uniti d'America avevano nei confronti di tutto il mondo di tutti i paesi nel mondo durante la maggior parte della loro storia e io penso che Gonzalo Lira in qualche senso sperava che anche le sue critiche la sua voce critica contro il regime ucraino non sarà minacciata da esso proprio grazie al passaporto statunitense purtroppo non è andata così evidentemente il regime di Biden soprattutto negli ultimi anni da quando sono arrivati al potere i democratici nelle Stati Uniti d'America era evidente che il regime di Biden insieme con il regime di Zelensky hanno creato in Ucraina un vero e proprio stato terrorista che compieva azioni terroristiche proprio innanzitutto nei confronti dei cittadini ucraini poi anche rispetto agli altri cittadini di altri paesi del mondo ovviamente in primis i russi e quando gli Stati Uniti d'America hanno fatto questa scelta, brutale scelta però per il loro sistema geopolitico evidentemente si trattava di una scelta vitale perché se sono andati verso queste decisioni vuol dire che si è trattato di una necessità assoluta Gonzalo Lira è stato arrestato è stato arrestato dal regime di Zelensky contro di lui hanno fatto una specie di provvedimento speciale gli agenti della SBU, di servizi segreti ucraini hanno arrestato Gonzalo Lira dicendo che lui è colpevole nel non condannare le azioni dei russi quindi siccome lui nei suoi programmi YouTube e nei suoi canali trasmessi dall'Ucraina perché lui abitava all'epoca nell'Ucraina non condannava i russi lui è stato arrestato cioè immaginate la follia non hanno detto lui è stato arrestato perché critica pesantemente Zelensky perché critica l'Ucraina che è nazista no, è stato arrestato perché non condannava i russi quindi è una cosa folle totalmente cioè se uno non si esprime riguardo a un argomento è già un crimine è stato portato in carcere in carcere è stato pesantemente torturato poi fu rilasciato è intervenuto la sua famiglia sono arrivati i suoi familiari il suo papà in Ucraina però quando lui fu rilasciato dal carcere ucraino a lui hanno tolto tutti i documenti e in pratica lui viveva in Ucraina con dei documenti provvisori che funzionavano solo all'interno dell'Ucraina non avrebbe potuto abbandonare Ucraina lui ha cercato di fuggire dall'Ucraina perché si è spaventato ha visto come era la situazione ha visto come l'hanno trattato l'hanno torturato fisicamente nel prigione nel carcere ucraino lui ha descritto ha visto queste torture nei suoi video nei suoi commenti sul Twitter e tra l'altro chi vuole approfondire questi fonti chi vuole leggere questi documenti in originale io ho tutto pubblicato sul mio canale privato Telegram vi ricordo che il link per l'abbonamento troverete nella descrizione a questo video abbonatevi e c'è tutto il materiale tutte le fonti quindi quello che vi racconto io è tutto fondato su situazioni reali e potete trovare le fonti sul mio canale privato Telegram il Gonzalo Lira quindi dopo essere stato rilasciato dal carcere ucraino ha tentato a fuga ovviamente senza passaporto statunitense ha cercato di uscire dal paese illegalmente non è riuscito di farlo perché come sapete gli ucraini hanno chiuso le frontiere già da un po' di tempo sulle frontiere tra Ucraina e l'Europa occidentale ci sono grosse problematiche e lui a mio avviso è sbagliato di fuggire verso l'Occidente se lui avrebbe provato di fuggire dall'Ucraina verso la Russia attraverso la prima linea dove comunque ci sono le possibilità di uscire verso i russi ci sono comunicazioni ci sono civili ucraini che possono aiutare in questo ci sono tantissime persone che ogni giorno dall'Ucraina fuggono verso la Russia questo diciamo flusso non si è mai interrotto quindi lui avrebbe potuto fare così però lui penso che si è fidato più di fuggire verso l'Occidente perché era anche spinto dai propri genitori e probabilmente perché per lui si sembrava una cosa più ovvia da fare lui ha provato di farlo non è riuscito quindi le ucraini l'hanno catturato per la seconda volta l'hanno imprigionato e in questa prigione lui è rimasto fino alla propria morte lì è stato torturato brutalmente picchiato gli è stato provocato provocato le fratture delle ossa lui dalla prigione è riuscito a mandare ai propri genitori alcuni foglietti perché ormai all'interno della prigione lui non ha potuto ovviamente comunicare non ha potuto fare video non ha potuto mandare i messaggi su Twitter perché era privo di qualsiasi possibilità di comunicazione con il mondo esterno però comunque ha riuscito in qualche maniera far passare alcuni messaggi scritti sui foglietti ai suoi genitori tra l'altro io ho pubblicato anche questi documenti sul mio canale privato Telegram c'è l'ultimo l'ultima lettera minuscola che lui ha scritto ai suoi genitori dove lui descrive il suo stato terribile in pratica sta comunicando che lui sta per morire perché è stato torturato maltrattato le hanno rotto le costole e l'hanno lasciato al freddo lui ha preso la polmonite bilaterale lei si è sviluppata la polmonite bilaterale i carcerieri non hanno voluto permettere ai genitori di far passare a lui i medicinali e anche all'interno del carcere non volevano curarlo perché comunque qualsiasi carcere sapete come funziona che all'interno c'è un ospedale una diciamo piccola piccolo riparto ospedaliero se i detenuti si ammalano e se la malattia può essere curata all'interno di questa struttura di solito li curano all'interno della struttura se invece la malattia è grave talmente che c'è necessità di ricovero nella struttura ospedaliera più seria allora il detenuto viene trasferito in una struttura ospedaliera ovviamente lo seguono le guardie c'è un speciale regime di sorveglianza che viene imposto questo avviene in tutti i paesi del mondo ma non nell'Ucraina in Ucraina quando il sistema il regime ti vuole ammazzare ti lascia semplicemente morire nella cella picchiato torturato con le ossa rotte e con polmonite bilaterale con tutti problematiche senza darti neanche i farmaci per in qualche maniera cercare cercare di farti guarire questo è successo con Gonzalo Lira è stato torturato picchiato maltrattato l'hanno condotto a una malattia e quando lui si è ammalato quando ha avuto già problematiche molto gravi perché lui nell'ultima lettera ai propri genitori racconta di essere ormai di avere fatica di respirare di avere questa polmonite bilaterale che lo devasta lui è completamente gonfio e quindi è una lettera in pratica dove una persona cosciente sta comunicando che sta per morire e il regime ucraino l'ha fatto morire lui è morto la sua morte è stata annunciata dai suoi genitori bisogna dire che nonostante il fatto che diversi giornalisti statunitensi hanno parlato di questo in primis ha fatto un intero programma dedicato a questo terribile omicidio di Gonzalo Lira il giornalista statunitense Tucker Carlson lui ha parlato anche con padre di Gonzalo Lira gli ha fatto un'intervista dove quest'uomo ha raccontato gli ultimi tempi della permanenza del proprio figlio in carcere di come la loro famiglia ha cercato in tutti i modi di tirarlo fuori della brutalità del regime di Kiev ha criticato anche la politica statunitense ha criticato il governo statunitense Biden e tutto il sistema occidentale in generale per come trattano i giornalisti per come trattano coloro che cercano di riportare la realtà oggettiva all'attenzione del pubblico e è molto vergognosa cari amici la reazione della comunità occidentale e soprattutto dei giornalisti giornalisti blogger pochissimi hanno parlato di questo terribile fatto di omicidio pochissimi tutti quelli che qua in Italia si riempiono la bocca sempre dei discorsi di valori di diritti civili diritti umani libertà di stampa della democrazia tutti quei benpensanti che di solito straparlano quando in Russia non lo so mettono in carcere l'ennesimo provocatore come Navalny che non è blogger non è giornalista ma un provocatore pagato da con i soldi degli oligarchi occidentali e tra l'altro si trova in carcere si trova benissimo c'è una faccia che piena di salute e non ha sicuramente alcun problema fisico non viene torturato non viene ucciso semplicemente viene tenuto lì dove un provocatore e anche simpatizzante al nazismo deve trovarsi a mio avviso comunque tutti quelli che di Navalny si riempiono la bocca come se fosse una vittima politica di Gonzalo Lira non ne parlano non ne parlano neanche una parola tutti quei giornalisti opinionisti scrittori benpensanti difensori dei diritti che noi abbiamo qua in Italia che sono pronti a difendere chiunque pur di spendere la parola persino non lo so degli animali o cavallette chiunque pur di dimostrare a tutto il mondo come loro sono bravi come rispettano i diritti civili sul terribile omicidio di Gonzalo Lira nelle carceri del regime di Silensky non hanno speso neanche una parola e questo cari amici dimostra in che mondo ipocrito in che società ipocrita noi viviamo in che situazione drammatica ci troviamo sia dal punto di vista di situazione politica che è la situazione culturale perché non c'è non esiste più la cultura del dissenso e questa è una cosa tremenda io ho pubblicato sul mio canale privato telegram su altri canali che non mi hanno ancora bloccato tra l'altro mi hanno bloccato facebook io volevo dire questa cosa facebook mi ha bloccato io non posso più pubblicare niente su facebook e questo tra l'altro per farvi capire che cos'è la democrazia nella società occidentale se tu inizi a parlare di israele di gaza dei genocidi o dei palestinesi ti bloccano facebook ti blocca e niente sui canali che sono ancora disponibili come instagram io ho pubblicato ho anche qua su youtube ho fatto un un post dedicato a gonzalo lira è una cosa tremenda cari amici una cosa tremenda che nessuno parla che queste cose succedano e che nemmeno la cittadinanza statunitense ha salvato un blogger un giornalista da terribile morte tra l'altro persino Elon Musk in certo punto si è espresso in difesa di gonzalo lira perché ha più più di una volta ha sollecitato questa tematica sul suo account di X quello che una volta si chiamava twitter Elon Musk ha scritto ma scusate ma noi che abbiamo cioè noi americani che abbiamo fornito delle nostre tasche più di 100 miliardi di dollari all'Ucraina di Zelensky ma è normale che lui ci paga in questo modo cioè ci ripaga uccidendo e maltrattando e torturando il nostro connazionale una persona proveniente dalle Stati Uniti d'America ovviamente a questa domanda di Elon Musk non ci sono state risposte da parte delle autorità pochissimi giornalisti sono espressi però almeno nelle Stati Uniti d'America qualcuno si è espresso qua da noi in occidente europeo in Italia in Germania in altri luoghi io vedo che c'è totale silenzio e nessuno si esprime su questo argomento ed è molto grave cari amici molto grave perché se noi se da noi aprono la bocca appena in Russia succede una dubbia storia che poi qua dipingono come ah cattivo Putin sta ripremendo quelli altri ah non lascia non permette di parlare va bene io sono d'accordo se volete criticare il sistema di Putin sarò d'accordo per primo di essere dalla vostra parte quando si tratta delle critiche ovviamente costruttive e fondate su una matrice reale quando si tratta non di una becera propaganda ma dei fatti reali io sarò contento di criticare chiunque pur perché questa sia la realtà ma non posso accettare il fatto che qua da noi criticano Putin per quello che presubilmente fa e non vedono quello che commette il regime ucraino di Zelensky quei crimini terribili che ammette il che commette il regime di Zelensky ultimo di questi uccisione di blogger e giornalista Gonzalo Lira nelle carceri ucraine torturato massacrato come in stesso modo in cui i nazisti itleriani torturavano e massacravano le persone che non erano d'accordo con la loro ideologia gli oppositori gli sovversivi quelli che loro ritenevano pericolose per il loro regime stessa identica situazione stessi identici metodi quindi amici io vi invito di approfondire questa storia vi invito di diffondere questo video e anche altri materiali su Gonzalo Lira soprattutto per far conoscere a più persone questa realtà gli uomini come Gonzalo Lira non devono morire e rimanere nel dimenticatoio il mondo deve sapere ciò che è successo perché questa la loro storia fa parte di questa realtà oggettiva di questa verità che gli oppressori cercano di nascondere censurare cercano di seppellire sotto enorme quantità di informazione che funziona come l'immondizia vari blogger idioti vi racconteranno un sacco di bagianate vari esperti vi racconteranno un sacco di cavolate e la storia di Gonzalo Lira sarà sepolta sotto questo enorme peso di menzogne quindi per evitarlo fate un'azione diciamo rivoluzionaria io vi chiedo proprio come come chiederei ai miei amici e io vi considero amici non lasciate questa storia così spendete un minuto cinque minuti della vostra vita per rilanciare su tutti i vostri canali questa storia questo video questa informazione su Gonzalo Lira perché non deve rimanere assolutamente la morte di questa persona dimenticata e in qualche modo censurata dal sistema della dittatura oligarchica occidentale amici grazie per essere stati qui con me grazie per la vostra attenzione come sempre nel finale del mio video io vi chiedo di fare abbonamento al mio canale privato telegram per approfondire le notizie per aprire il vostro orizzonte per superare quelle che sono le le censure strumentalizzazioni dei media occidentali se volete aiutarmi qua su youtube vi invito come sempre anche di iscrivervi al mio canale commentare i miei video e condividere i miei video con i vostri amici e vi ricordo che in tutte le librerie d'Italia c'è il mio libro che si chiama La guerra e l'odio voi vedete qua alle mie spalle in questo libro io racconto la storia della guerra ucraina le origini e le dinamiche principali se volete scoprire come quando da chi e perché è stata creata questa guerra leggete il mio libro e poi fatemi sapere cosa ne pensate vi mando un forte abbraccio e vi voglio bene